La speranza e il coraggio, l'altra parola che ci invita a riscoprire Papa Francesco nelle sue Catechesi sulla speranza. Coraggio e speranza, speranza, coraggio e felicità, potremmo dire insieme a tutte le altre parole che abbiamo visto nel nostro cammino, nel nostro percorso, che ci vuole portare a penetrare la bellezza, ma anche il mistero, ma anche la concretezza della felicità. Ma sentiamo cosa dice Papa Francesco a proposito della speranza e del coraggio. Ecco qui, e ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Lo domandiamo a Dio questo dono del coraggio? O piuttosto ci limitiamo a chiedergli soltanto di risolvere i problemi. Chiedere il dono del coraggio è veramente un atto di fede ed è anche un atto di speranza. Ricordati, continua Papa Francesco, che Gesù ha vinto per noi la paura. Lui ha vinto la paura. La paura è un ostacolo alla speranza. La paura è umana, è qualcosa che tutti abbiamo dentro. Io direi che dobbiamo avere dentro. Non esiste un uomo che non abbia paura. Ma esistono uomini e donne che riconoscono le loro paure e che le affrontano appunto chiedendo il dono del coraggio al Signore, a colui che ha vinto la paura. La nostra nemica più infida, dice Papa Francesco, riferendosi chiaramente alla paura, non può più nulla contro la fede perché Cristo ha vinto la paura. E quando ti troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita ricordati che tu non vivi solo per te stesso. Nel battesimo la tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a Gesù. E se un giorno ti prendesse lo spavento o tu pensassi che il male è troppo grande per essere sfidato, pensa semplicemente che Gesù vive in te. Questa consapevolezza da un lato di avere la paura e dall'altro lato che Gesù vive in me è il terreno fertile per convivere tra virgolette con la paura, per affrontarla cristianamente e umanamente e sconfiggerla. Perché per avere speranza, soprattutto in questo tempo, occorre tanto coraggio. Perché la speranza oggi è dire a chi vive schiavo dell'egoismo, del consumismo, della nostra cultura, del nostro tempo in cui l'avere è più importante dell'essere, in cui la persona viene dopo il mercato, dopo le finanze, ci vuole coraggio a dire che è la persona, è la persona il fondamento di tutto. Ci vuole coraggio a dire a chi sta vivendo nella massima povertà, a chi non può mangiare nemmeno più un pugno di riso che i potenti saranno abbattuti, che i potenti non sono coloro che comandano, ma coloro che sperano e coloro che cambiano la vita ogni giorno, soprattutto degli ultimi e di chi non conta. Io vi aspetto domani, Parli Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!